Malgrado le avverse condizioni meteorologiche, la senatrice Paola Taverna e i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle, Pier Giorgio Fabri, Francesca Frenquellucci, Alessandro Cascini e Rossella Accoto, sono stati accolti da un pubblico molto numeroso e particolarmente attivo nei locali del ristorante Il Pesce Azzurro a Fano. I portavoci a tutti i livelli del Movimento hanno precisato che non sono a caccia di poltrone, ma vogliono lavorare per impostare le corrette politiche atte alla ripresa economica e alla riorganizzazione dei servizi indispensabili per tornare ad avere una vita sociale che rispetti la degnità di ognuno e che faccia di tutti dei cittadini e non dei sudditi.